Facciamo una ricerca rapida di un articolo da modificare in Wordpress Andiamo dalla bacheca su articoli Ci ritroviamo qui, nella pagina di modifica articoli Abbiamo la possibilità di usare dei filtri Per esempio, se vogliamo modificare un articolo presente nella categoria prossimi appuntamenti Selezioniamo dalla tendina, filtriamo Clicchiamo appunto il tasto si, filtra In questo caso abbiamo un solo appuntamento Riusciamo a modificare tutto molto più velocemente Se invece conosciamo una parola chiave Per esempio, voglio modificare un articolo dove è presente un titolo che si chiama Fratelli d'Italia Io vado qui e clicco Fratelli Sono sicura che questa parola c'è Faccio cerca articoli Attendo che Wordpress laboli la richiesta Dato che la richiesta non mi restituiva alcun risultato Provo con la F maiuscola In questo caso mi viene rappresentato subito l'articolo Posso cliccare su modifica o su modifica veloce Se devo modificare per esempio solo il titolo Faccio modifica veloce Se devo modificare delle parti interne Oppure la categoria per esempio Se invece devo modificare delle parti interne dell'articolo Clicco su modifica Questo è un metodo per eseguire ricerche rapide Su Wordpress Clicco su modifica